Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati ragazzi su Farming Simulator 22 nella mappa Le Colline di Toscana Come sempre ragazzi, prima di iniziare con il gameplay, vi ricordo che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare questo e anche tantissimi altri giochi scontati Poi vi ricordo anche dei miei social, ad esempio il mio canale Twitch Se vi va mi trovate live dalle 21 in poi su Twitch, link in descrizione Per l'appunto, e ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al mio canale ricordatevi della campanellina così ricevete una notifica, ogni qualvolta carico un nuovo video qui sul mio canale Allora ragazzi, a proposito del mio canale, ha fatto 10 anni il mio canale ragazzi Non oggi, ieri in realtà, solo che mi è passato di mente, mi è passato di mente ragazzi Ieri il mio canale ha fatto 10 anni, e già, se fa vecchio pure lui eh Mica solo io Faccio famo vecchi Il tempo vola Il tempo scorre Allora Mamma mia quanto rumore Fortissimo, fortissimo Abbasso un po' il volume ancora di più Lo sento mega forte Allora mi hai fatto la balla, andiamo Dunque raga, come potete notare Stiamo finendo con la paglia, stiamo finendo anche con l'erba Così poi Ci abbiamo altro da fare, se ricordate Devo vendere il terreno 5 Che è troppo scomodo da lavorare E devo comprare un altro terreno Quello che vi ho fatto vedere nello scorso gameplay Mi pare che si chiama 87 il terreno Mo' vediamo Allora intanto qua Abbiamo finito con l'erba Ormai Non ci basta per fare un'altra balla Abbiamo fatto Tre balle Quattro balle Mi pare Quattro balle di erba Sufficienti Spero per passare un po' di tempo Cioè Spero sono sufficienti Per le nostre Pecore Sì pecore Abbiamo le pecore Allora andiamo un po' a parcheggiare Comunque giustamente Questa mappa raga Perché ve lo chiedete sempre Questa mappa ancora non è Disponibile per tutti L'ho detto tante volte Però magari forse ultimamente non l'ho ripetuto Questa mappa al momento non è disponibile Diciamo nel mod hub Dovrebbe uscire nel mod hub Dovrebbe uscire Speriamo presto Diciamo che a quanto ne so E' in attesa che la Giants La prova La provi la mappa La mappa è stata inviata alla Giants Però sapete che poi ci vuole Il tempo che ci vuole Quindi ci vorrà del tempo Forse due tre settimane E poi in teoria questa mappa Esce per tutti Allora qui intanto Mi pare proprio che abbiamo finito Finalmente Ormai manca poco raga Manca poco E la mappa esce A posto Ora questo terreno lo posso vendere Devo restituire questo cassone da carico Perché l'abbiamo preso a noleggio E dobbiamo andare a comprare un altro terreno Poi ragazzi Ho messo una mod che mi avete consigliato voi Mi avete consigliato Nick che metti La seminatrice Gil Ayrsem Boh Non so se l'ho pronunciato bene O Gil O Gil Forse più Gil Boh Comunque Gil Ayrsem Non è un marchio italiano Non lo è Però a quanto ho capito In Italia La si usa Questa Seminatrice E sarà per questo che me l'avete consigliato Ovviamente Si ho capito bene Dovrebbe essere un marchio Credo spagnolo Se non ricordo male Se non ricordo male Perché ci ho dato un'occhiata Qualche Giorno fa E mo Non me ne ricordo bene Ricordo che non è un marchio italiano Però ho visto che in Italia Viene venduta Questa seminatrice Quindi insomma Va bene La mettiamo La trovate nel moddub Questa seminatrice Costa 17.000 euro E larga 6 metri Ed è disponibile anche per console Però per console Non la trovate con il marchio originale La trovate come Lizard Perché il marchio Gil Non è diciamo un marchio Di cui la Giants ha la licenza E quindi non può uscire Questa mod Nel moddub Della Playstation O della Xbox Perché non hanno La licenza Quindi però La trovate come Lizard Quindi come Come seminatrice Senza marchio Reale Allora Difatti eccola qua Vedete Gil Air Sam Ovviamente io gioco da PC Ho messo il marchio reale Però da console Da console Cercate comunque sempre Air Sam 6040 Sempre lei PC o console E sempre Air Sam 6040 Cambia solo il nome Gil Che non c'è su console Allora dunque Andiamo a restituire Il cassone da carico L'abbiamo utilizzato Per la bellezza Di Quasi un'ora Ok Non mi serve più Ok In teoria no Ok Dunque Andiamo a vendere Anche il terreno Numero Questo qui Insomma E compriamo L'87 Che poi diventa 169 Non lo so Vabbè Ok Con i soldi Che avanzano Mi compro Questa Gil Carino Tutto ciò Ma non mi serve Allora 17.000 euro 185 cavalli Chiede E noi per fortuna Ce li abbiamo Dai abbiamo il Fiat Nea 180 6 metri Di larghezza Di lavoro E E Buona Diciamo però Che non c'ha Il coltivatore Incorporato Credo che sia Potenziabile Sì dai Per 750 euro In più Io faccio L'ampliamento Design Vecchio O nuovo Ah mi va bene Il vecchio Disc marker No L'indicatore Di porche Non mi interessano Si chiamano così Non è che sto di una parolaccia Va bene La compriamo E mo la andiamo A prendere ovviamente Mo ci mando L'operaio Il negozio Però anche L'altra Seminatrice Che abbiamo Noi La utilizziamo Perché tanto Il terreno Che abbiamo Comprato E' un terreno Perfettamente Piatto Quindi In pratica Posso tranquillamente Utilizzare Anche l'altra Seminatrice In contemporanea Così Facciamo il lavoro Ancora più veloce Ah però Aspetta In teoria Queste balle Le dovevo caricare E vabbè Allora Vai In negozio Negozio Non ci può andare Perfetto Già Cominciamo Alla grande Guarda Cominciamo Bene Cominciamo Vai Ok Ok Qua c'è L'altra Vabbè No Le balle Le posso andare A prendere Anche qua C'è il gancio Ma sì Dai Tanto che Fretta C'era Maledetta Primavera Andiamo Sì Andiamo a prendere Le balle Dai Tempo Ne abbiamo Almeno le mie Pecore Hanno di che Mangiare In teoria Sono balle Da 5.000 Quindi 20.000 Di erba Ok Allora Vediamo Vediamo un po' Perché Credo che Eh Difatti Una balla Già Ce l'hanno Forse Però Gli devo Dare Una Spintarella Vabbè Io Gli lascio Pure Questa Così Man mano Se la Autoprendono È Perfetto Man mano Che si svuota La mangiatoia In automatico Quelle Quelle Balle Vanno A finire Nella Mangiatoia Allora Intanto Aspettiamo Che l'operaio Arriva In negozio Quindi Ancora Tre Balle Sì Ancora Tre Aspetta Ma io C'ho Un'idea Ma se Mo' Le butto Da questo Lato E poi Quando servono Le vado A prendere Ma Risparmi Un po' Di tempo Intanto Qua Notate Una Pala Eolica Una Mod Che ho Creato Io Per chi Non lo Sapesse Ho Creato Finora Dieci Mod Tutte Pubblicate Nel Mod Tutte Disponibili Anche Per Console In Descrizione C'è Il Link Anche Delle Mie Mod Che potete Trovare Nel Mod Hub E Il Link Vi Porta Nel Mod Hub Ok L'operaio È Arrivato Allora Mi pare Che è Periodo Di Semina Questo No Dovrebbe Preso Bella Grande Allora Andiamo Su Sacchi Semi Tre Vai Ok Ok Allora Io vorrei mettere Orzo Che l'orzo Me ne dà un po' di più Di solito Mi sa che qui C'ho un peso Non adatto Non è potenziabile Questo peso Perché Praticamente Notate che Mi scivola davanti Il trattore Vabbè Ovviamente La seminatrice Una volta Che poggia A terra Non ha più Problemi Però Vediamo se Configura Eh lo è Eh mettiamo Facciamo 1.2 Ok Potenzia Oddio Eccola là No Ok 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 Mo andrà un po' meglio Un pochino Meglio Un pochino Beh Un po' meglio C'è Eccola qua Comunque raga La nostra Jill Ayrsem 6040 Vi ringrazio per il consiglio Ovviamente Raga Cerco Di portare Quanti più Mezzi O italiani O che si usano In Italia E poi Io vi ripeto Ovviamente Non sono Per niente Un esperto Di agricoltura Quindi E' ovvio Che molte volte Faccio sbagli Anche madornali Ma E non è il mio lavoro Fare l'agricoltore Quindi Posso anche Sbagliarmi Molte volte E' come Quando portavo Il gioco Il gioco Di simulatore Di volo Eh ma nicchia Ma te sbagli E che ne so Mica nella vita Faccio Il pilota Di aerei Giusto Allora Siamo quasi arrivati Terreno 87 Intanto Qua dietro Me se muove Tutto Guarda Allora Vediamo un po' Ma siamo Effettivamente Nel periodo Di semina No Ci siamo Alla grande Che poi Comunque La mappa Così come è stata Adesso Diciamo Pensata Diciamo che Si può seminare Due volte L'anno Si può seminare E raccogliere Due volte L'anno Perché Noi adesso Mettiamo L'orzo L'orzo Lo raccogliamo A giugno A giugno Subito Andiamo a mettere Magari O mais O semi Di soia Poi raccogliamo E poi Riseminiamo Quindi in pratica In questa mappa Si semina E si raccoglie Due volte L'anno Quindi in pratica Sfruttiamo Due volte Il terreno Che è una buona Cosa Allora Prima di mettere L'operaio Perché lo vorrei Utilizzare Io Magari Per far vedere Un po' Il mezzo Prima vorrei Sbrigarmi La questione Balle Così questo terreno Non ci penso più Anche se poi Qui c'è da Fertilizzare Ma Tanto Una volta che Fertilizzo qui Fertilizzo anche Il terreno Quello che abbiamo Appena comprato Qui manca proprio Il peso Ah no Però mi pare Che l'ho visto In farm Vabbè Metto qua Per ora Questo lo lasciamo Qua Allora Vediamo un po' Dove è la Seminatrice Eccola qua Però Davanti Non ho il peso E difatti Non va bene Ok Allora Dovrei avere Il peso Eh Qua c'è Quello grosso Meglio Questo è un Gran bel peso 1100 E invece Nell'altro Trattore Mi pare Che abbiamo Messo 1200 Di peso Ma ancora Non c'è Basta Ma che razza Di peso Mi ci vuole Ancora Si vede Che Proviamo Ad abbassare Un po' Il peso Però Ehm 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 No Col peso Abbassato Va a finire Che struscia Per terra C'è C'è Ma con queste Seminatrici Ci vogliono Pesi Da 1800 Magari 2000 Kili Ci vogliono Pesi Migliori Vabbè Dovrò Dovrò Comprare Qualche peso Più Buono Ehm Che Siamo A corto Di soldi Almeno Abbiamo Comprato La Jill La Seminatrice Ora Ci mandiamo L'operaio Nel terreno E io Intanto Mi comincio A lavorare Nel terreno Vabbè Tanto Ma è dietro L'angolo Addia La verità No Ma è dietro L'angolo Siamo quasi Arrivati Non c'è Neanche Bisogno Che ci mando L'operaio Qua dietro Siamo già Quasi Arrivati Mo Svoltiamo A sinistra E siamo Arrivati Qua c'è un altro Di quei terreni Che mai Nella vita Lavorerò Qui ci vuole Minimo L'autolivellante Ma anche Trattore Mega potente Per seminare Un terreno Come quello Allora Vediamo Un po' Ok Mo Ci metto Qua L'operaio Orzo Ok Ci mancava Solo Che mettevo Frumento E della Orzo Meno male Che ho guardato Allora Fertilizzato Zero Pazienza Poi lo Fertilizziamo Allora Andiamo a provare La Jill Adesso Voglio provarla Io Poi magari Ci metto L'operaio Ma sta scherzando Ma Aspetta un po' Fammi capire Ah e qua Deve essere Un errore Che ha fatto Johnny Il creatore Della mappa Anche C'è anche Un altro Terreno Dove mi dice Che non ho Accesso Al terreno Praticamente Il terreno Non è tipo Cioè Non è tagliato Bene Cioè I permessi Non sono messi Bene Cioè Praticamente C'è un metro Di terreno Che me lo segna Come se non è mio E questa è una cosa Che andrebbe Che va risolta Mi è capitato Anche nel terreno Quello lì sotto Che dice Che non è mio Un pezzo Almeno Comunque La Jill Si comporta Bene Mi sono spinto Un po' più A sinistra E Per ora Non sta di niente Almeno Fino al bordo Mi ci fa arrivare Vediamo qua No Qui non ho accesso Comunque Una bella Seminatrice Non velocissima Però 14 chilometri Rari Poi vabbè Il terreno Raga Bello Piatto Non abbiamo Problemi A lavorarlo Non ci sono salite Non ci sono Alberi In mezzo Al terreno Cioè Ma quale terreno 5 Quello che abbiamo Lavorato L'ultima volta Ma quale Meglio questo Questo si che A parte Questo piccolo problema Qui di lato Che non mi fa Lavorare il terreno A parte quello A parte quello Dai Ci si può Lavorare Benissimo Così ci si Lavora bene Quasi quasi Vorrei togliere L'HUD Così si vede Meglio Si vede un po' Meglio tutto Abbassa Tanto mi pare Che di semi Dovremmo Averne Un bel po' Togliendo Tutte le scritte Dal monitor Diventa un po' Più Come dire Il gioco Diventa più Realistico No E' quasi come Seguire il trattore Nella realtà Ma comunque In due Anche se quella E' una seminatrice Piccola Dovremmo fare Molto in fretta Ci vuole proprio Un peso Migliore Ci vuole proprio Un peso Più buono Ma per tutte Due I trattori Con queste Seminatrici Allora ci metto L'operaio Che almeno lui Sa andare Più dritto Di me Poi che altro C'è da fare Oh Vabbè Qua mi ha saltato Una striscia Chissà per quale motivo Ma dettagli Ci abbiamo L'ape E basta Non abbiamo Altri trattori Ovviamente Voglio comprare Poi altri trattori Lamborghini Same Però il problema Sui soldi Cioè Non abbiamo soldi Cioè Basta Finito Al massimo Abbiamo per ora 15.000 euro Però Presto Dobbiamo fare Delle vendite Tipo Abbiamo 120.000 euro Di uova Da vendere A novembre Novembre Quando è Beh novembre Dovrebbe essere Il prossimo mese Vabbè Rimettiamo L'HUD Ok Novembre Siamo a ottobre Il prossimo mese Se vendono le uova Già Mose vendono bene Già ora 112.000 Ma aspettiamo Il prossimo mese 38.000 Di frumento Ma quello Di solito Per le galline Lo lascio La colza Si vende a dicembre Quindi tra poco Come sa che Vendiamo pure quella L'ana Ne abbiamo Poca E va bene Quindi principalmente Dalle uova Faremo un po' Di soldi Cioè A malapena Ripaghiamo un po' Il debito A malapena Con le uova Ripaghiamo il debito Poi vabbè L'usato Ci abbiamo già guardato Niente di che E vabbè Allora Ci vorrà un po' Di tempo qua Per Seminare E finire Questo terreno Ma per ora Direi proprio Che non abbiamo Altro da fare A parte Finire Di lavorare Il terreno Poi vabbè C'è qualcosa Ci stanno Missioni di fertilizzazione Ma non mi conviene Perché non ho Trattori disponibili Il fertilizzante Lo devo comprare Pagano veramente Poco Queste emissioni Questi contratti Pagano veramente poco Pagano poco Non so tanto Convenienti Va bene Ragazzi Sì vedo che il tempo È volato E mi sa che Mo concludo Quindi Spero vi sia piaciuto Il gameplay Vi vado ancora Una volta A ricordare Che in descrizione Trovate un po' Di tutto Tra un link Per comprare Questo gioco E tanti altri Scontati Il link Delle mod Che ho creato io Il link Della mod Questa qui Air Sam E tanto altro Quindi raga Date un'occhiata In descrizione E poi Come vi stavo a dire Iscrivetevi Attivate la campanellina Se vi va Ovviamente Ragazzi Vi saluto Dunque Ciao Alla prossima